Questa sera andrà in onda la decima puntata del Grande Fratello, durante la quale Shai la gatta e Lorenzo Spolverato faranno il loro rientro nella casa. I due, che hanno recentemente partecipato al Gran Hermano, hanno lasciato Madrid ieri sera per volare verso Roma. Nel corso del viaggio, hanno avuto modo di condividere le loro impressioni tramite i microfoni degli account social del reality show condotto da Alfonso Signorini. Lorenzo Spolverato ha espresso il suo entusiasmo. Siamo stati fuori dalla casa del Gran Hermano, e non posso fare a meno di sentirmi un po' confuso. Tutto è successo così in fretta. Ho trascorso una settimana fantastica insieme ai miei amici spagnoli, e ho appreso molte cose nuove. Mi sono affezionato a diverse persone, ma la verità è che sento una forte nostalgia per la casa in Italia. Quindi, cari amici, spero di rivedervi presto, poiché la mancanza della casa spagnola e di quella italiana si fa sentire. Anche Shai la gatta ha condiviso i suoi pensieri, ciao, cucciolotti di foca. In questo momento sono in auto, ho appena gustato un panino con pollo e formaggio, ed è stata la cosa più deliziosa che ho assaporato negli ultimi giorni. Sono davvero felice, anche se un po' stanca, perché l'adrenalina sale e scende continuamente, ed è stancante. Siamo in viaggio per tornare a casa, e ci vorrà un po' di tempo, il che rende tutto un po' lungo. Non vedo l'ora di essere di nuovo a casa per rivedere tutti i ragazzi, abbracciarli e raccontare loro tutto ciò che è accaduto. Sono ansiosa di far sapere a tutti che siamo ancora qui, perché non ho idea di cosa stiano pensando, cosa stiano dicendo o cosa stiano facendo in nostra assenza. Non vedo l'ora di incontrarli.